Alessandria scalda i motori per il Natale e invita la popolazione e i turisti a scoprire il capoluogo di provincia e le sue iniziative organizzate per le festività e avarcare con uno sguardo positivo e rivolto al futuro i cinque archi tematici che l'amministrazione comunale ha predisposto in altrettante porte commerciali della città via Milano, piazza Santo Stefano, via dei Martiri, via San Lorenzo, Corso Roma, declinate attraverso una serie di temi le bambine e i bambini, la musica, la cultura, il commercio, la luce che corrispondono a progetti che stanno particolarmente a cuore alla giunta guidata da Giorgio Abbonante questi cinque archi speciali saranno illuminati a partire dal 13 dicembre nel giorno della ricorrenza di Santa Lucia molto amata dagli Alessandrini in concomitanza con l'accensione del grande albero di Natale davanti a Palazzo Rosso ci sarà l'illuminazione e quindi l'inaugurazione dell'arco di Via Dante e sei grossi alberi illuminati per tutta la città e i soborchi un Natale realizzato in sinergia, hanno sottolineato la vice sindaco Marica Barrera e l'assessore al commercio Giovanni Berrone durante la conferenza stampa di presentazione, dal lavoro degli uffici comunali a quello dei varienti, società e associazioni impegnate a far brillare il Natale in città, a partire dalla mostra evento di Crepax a più Napoleone con le sue battaglie di carta, promossa da Comune e Azienda Costruire Insieme che sarà inaugurata il prossimo 8 dicembre alle 17 a Palazzo Cutica già da questo fine settimana poi si potranno apprezzare una serie di iniziative in centro come l'inaugurazione il primo dicembre alle 10 dell'albero dell'Anmil l'associazione nazionale fra i mutilati e invalidi sul lavoro realizzato insieme all'associazione nazionale costruttori edili verrà posto nel cortile del Palazzo Comunale oppure si potrà passeggiare fra i banchi del mercatino di Natale in piazza Marconi organizzato da Procom, mentre sabato 2 dicembre alle 17.30 al Teatro delle Scienze è in programma il vernissage della mostra Auguri Alessandria del vignettista Bort al quartiere Cristo ci sarà invece uno spettacolo con gli Elfi uno dei tanti momenti pensati pure per i più piccoli un Natale dedicato ai bambini perché ci sarà una baita di Babbo Natale in piazzetta della Lega insieme alla Giostrina dove verranno svolte attività proprio per i bambini poi con zucchero filato, cioccolata calda, concerti gospel insomma tantissime attività, tante proposte che non solo aiuteranno speriamo il commercio alessandrino ma animeranno le vie del nostro territorio per grandi e bambini grazie a tutti